Perché stiamo facendo questo intervento? Molto semplice, quelle pavimentazioni che voi trovate nel tratto di penetrazione urbana dell'autostrada 24 hanno una ventina d'anni. Non è un problema di portanza ma è invece un problema di drenabilità e di conseguenza la loro capacità di smaltimento delle acque piovane è ormai limitata, il che si traduce di fatto in risollevamenti, pozze e possibilità di aquaplaning. Quindi abbiamo deciso di intervenire. Sappiamo bene che intervenire in quel tratto senza dare turbative al traffico è praticamente impossibile, però era diventato necessario e quindi abbiamo preso il coraggio a quattro mani e programmato l'intervento in questo periodo dell'anno per due ragioni. La prima è perché non si può fare se non in un'estate stabile. Secondo motivo perché nell'ambito del periodo estivo l'analisi statistica dei flussi di traffico mostra chiaramente che questa finestra temporale che noi abbiamo allocato dal giorno 27 di luglio al 14 di agosto è quella che provocherà le turbative di minore entità alla circolazione. La prima fase è quella nella quale abbiamo preparato una via di corsa e chiudendo nei giorni scorsi gli svincoli e le uscite di Fiorentini e Palmiro Togliatti si è conclusa con un giorno d'anticipo sul programmato. La fase 2 durerà dal 3 al 6 di agosto, la fase 3 dal 6 al 14 agosto che comunque abbiamo programmato con un'estrema cura coinvolgendo nelle decisioni tutti gli stakeholders esterni, vale a dire in primis il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Polizia Stradale e il Comune di Roma. Giusto per darvi qualche numero avremo 50 camion in operazione, contemporaneamente attivi su tre turni avremo sei macchine fresatrici che serviranno a togliere la pavimentazione esistente di queste quattro contemporaneamente in attività, due ferme nella tesa eventuale che ci sia un guasto ad una delle macchine operatrici e quindi non avere il problema di dover attendere per mobilitarne un'altra. E lo stesso discorso vale per le finitrici, cioè quelle macchine che fanno la pavimentazione nuova ne avremo quattro contemporaneamente in azione e due ferme, due in stand by nel caso di guasto ad una delle macchine operatrici. La raccomandazione ovviamente è di partire informati su quelli che sono i programmi di lavoro nell'area interessata dal cantiere. A questo proposito è a vostra disposizione il nostro sito web con tutte le mappe di dettaglio ma non esitate a contattarci sia sui canali social che al numero 840 04 21 21 dove avete informazioni in tempo reale sulla viabilità. Grazie a tutti!